Leonardo Silva Revisore Avevamo appena aperto. Non sapevamo bene dove saremmo andati, né quale fosse il nostro obiettivo. Al bar entra un signore, si guarda intorno e dice «Ma questo è un luogo di perdizione!» e poi aggiunge «Per famiglie!». In un attimo capimmo quale fosse il nostro obiettivo e anche che l'avevamo raggiunto. Inizio anni 2000, San Salvario è un quartiere difficile. Alcuni cittadini scendono in strada per difendere le loro vie, le loro piazze, i loro luoghi, dall'occupazione di persone che considerano inopportune, squalificanti. Altri cittadini invece si mettono insieme per gestire il cambiamento, fare cultura e rendere il proprio quartiere accogliente e ospitale. Alcune di queste associazioni fondano l'Agenzia per lo sviluppo locale di San Salvario e iniziano a cercare un luogo per svolgere le loro attività. Un posto pubblico, cioè non solo di proprietà pubblica, ma aperto, facile, immediato e possibilmente abbandonato a se stesso. Da riqualificare. Lo trovano. E davanti c'è anche una piazzetta che ha bisogno di una sistemata. Una volta le donne, gli uomini, le famiglie andavano lì per farsi la doccia, per lavarsi. Poi quando gli appartamenti iniziarono ad avere il bagno dentro, non c'è andato più nessuno e quel posto è rimasto abbandonato a se stesso. Un posto perfetto per essere rimesso a posto, per essere restituito alla cittadinanza. Spazi per le associazioni. Questa era l'esigenza iniziale, ma fu subito chiaro che quel luogo non poteva essere solo di alcuni, doveva essere di tutti. L'uso dello spazio doveva essere condiviso. La gestione poteva essere assegnata ad un unico soggetto, ma la fruizione non poteva essere esclusiva. Doveva essere un luogo aperto, una casa di tutti e per tutti. Ma c'era un problema. Anzi, tre. Nessuno di noi aveva mai gestito un luogo. Non c'era un finanziamento pubblico destinato al progetto. Non era ancora arrivata nessuna richiesta di utilizzazione spazi. E adesso questo posto come lo riempiamo? Eravamo terrorizzati. Poi un giorno arriva da noi un insegnante di danza afro che ci propone di fare il suo saggio del corso finale nel cortile della casa del quartiere. Eravamo così ossessionati dall'horror vacui che le dicemmo di sì. Una notte mi svegliai di soprassalto. Quel posto era vuoto da dieci anni. Era in mezzo alle case. Gli abitanti erano abituati al silenzio. E noi, senza nemmeno aver aperto, avremmo esordito con uno spettacolo di danza afro con i tamburi dal vivo. Qualche giorno prima dello spettacolo ero sopra, al primo piano. A un certo punto sento una sorta di boato. Penso il terremoto dopo sei anni di ristrutturazione proprio adesso. Poi realizzo. Erano i tamburi venuti per le prove dello spettacolo. Questi li sento un fino a trofarello sicuro. Dopo dieci minuti suona un vicino furibondo. Dopo un quarto d'ora i vigili urbani. Riesco a intortarli spiegando loro che bastava chiudere qualche finestra e tutto sarebbe andato a posto. Se ne vanno. Per ora. Fino al giorno dello spettacolo, che è stato bellissimo. Ma quella sera la pagammo per anni. Dovetti fare almeno una decina di riunioni con la popolazione, la circoscrizione, l'assessore. In cui si parlava solo di tamburi. Quei tamburi che quella sera... Mi maledì tante di quelle volte per aver esordito con uno spettacolo di danza afro. E' vero che quando inizi col peggio poi tutto il resto è in discesa. Per l'inaugurazione mettemmo i manifesti in tutta la città. Cerchi casa con terrazzo? Cerchi casa con salone per le feste? Cerchi casa con cortile? Così dicevano. Era importante che quel posto fosse sentito da tutti come casa propria. dove trovare proprio quel posto in più che a casa propria non c'era. Oltre che un'occasione di socialità e di comunità. All'inaugurazione del bar ristorante venne mezza città. Avevo firmato la consegna dell'immobile a luna di quel giorno e dopo qualche ora la casa era stracolma di persone. Per l'inaugurazione quella vera il comune di Torino decise di farci un regalo. Una fontana. Ma non una qualunque. Una fontana di pietra di colore blu. Una bellissima fontana marocchina. La fontana doveva arrivare direttamente da Fest quella sera per essere inaugurata nel cortile della casa per suggellare il gemellaggio tra la città di Fest e la città di Torino. Il discorso inaugurale era previsto per le ore 18. Due ore prima, nessuna notizia da Fest. Dopo un po' arrivano due simpatiche e gentili funzionari del comune di Torino. Ma ancora nessuna traccia della fontana. Dopo circa un'ora vediamo avvicinarsi al Passo Carraio una panda color biancastro col bagagliaio mezzo aperto e qualcosa che sporgeva di colore blu. Ragazzi, è arrivata la fontana. È enorme. E adesso chi la tira fuori da lì? Esce dal pandino un funzionario del comune di Fez. Facci turno. Ma piccolo, non ce la farà mai. Allora chiamiamo un amico rumeno di buona stazza che prende la fontana, la abbraccia e la tira fuori dal bagagliaio. Intatta. Un miracolo. 36 ore, 2000 km, stretta nel bagagliaio di un pandino e non aveva nemmeno una riga. Si apriva con i migliori auspici, nonostante i tamburi. Dopo qualche mese non sapevamo più dove mettere la gente. Gli spazi erano tutti occupati. Associazioni, gruppi di cittadini, comunità di filippini, senegalesi, peruviani. Un luogo in cui si prende in uso uno spazio contribuendo alle spese e ci si incontra, si scambia, si cresce, si costruiscono esperienze, si gioca, si mangia, si beve, dove convivono sogni, collaborano idee, dove convivono volti e culture che si incontrano in quel luogo. La mancanza di un finanziamento pubblico paradossalmente ci ha aiutato. La collaborazione dei frequentatori della casa è stata fondamentale per creare questo strumento di socialità tutto nuovo. Alla riunione con l'associazione diciamo sempre una cosa, che la casa è un posto di tutti, di cui ciascuno si deve prendere cura, così come fa del proprio salotto, del proprio bagno o della propria camera da letto. Questo incredibilmente, al di là di ogni aspettativa, ha aumentato il senso di appartenenza dei frequentatori abituali della casa, mettendo a proprio agio chi invece passa di lì soltanto per caso, anche solo per qualche ora. Volevamo che questo posto fosse percepito come una piazza in cui la gente si sentisse così a proprio agio da essere libera di sedersi, semplicemente stare, anche senza consumare, nonostante la presenza di un bar ristorante. Un giorno sento un profumo di pizza calda, buonissimo. Mi avvicino al bancone del buffet, solo roba sana. Allora seguo il profumo, vado su in terrazzo e vedo che c'era una famiglia seduta a un tavolino che mangiava delle pizze che aveva preso nella pizzeria del quartiere. Ho pensato che avevano capito, in maniera spontanea e naturale, proprio quello che volevamo. Chi frequenta la casa non viene soltanto per svolgere un'attività specifica, ma si ferma anche oltre, per pranzare con i propri compagni di corso, per prendere un aperitivo con i genitori mentre i figli finiscono la lezione di violino, per coprogettare un'attività con altri che fanno cose simili ma non uguali, per condividere idee, progetti, fare innovazione. Accessibile, accogliente, aperto, contenitore di progettualità, ma soprattutto un luogo di tutti e di nessuno in esclusiva. E così, senza che ce ne accorgessimo davvero, è diventato un modello replicabile e replicato, forte di quel senso di comunità, di chi lo vive da quel primo giorno, da quel primo boato di tamburi, dei giochi dei bambini che vi festeggiano, dei colori delle tele e degli artisti che vi espongono, dei profumi delle spezie della cucina. E adesso vi faccio una domanda. Avete un'idea, un progetto, un desiderio che non siete mai riusciti a realizzare o sviluppare? Avete mai sognato per casa vostra un terrazzo, un grande salone per le feste o un cortile? Bene, adesso sapete dove andare.